Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Iscrivetevi al canale se non siete iscritti e lasciate già un like per farci crescere e appunto come dicevo nell'altro video far parte di quel numero che ci fa crescere piano piano Comunque, cosa faremo oggi? Io ho deciso di riproporvi il video dove andremo a mangiare nei ristoranti a soli 10 euro qui a Parigi Esattamente, possiamo sfiorare di poco più ma se spendiamo meno ancora meglio In questo episodio vi porteremo una baghetteria proprio qui a Montmartre E non dimenticatevi che dopo che mangeremo il ristorante gireremo tutta la zona per farvi vedere insomma cosa c'è intorno Così che se siete in zona e non sapete dove mangiare ve lo facciamo vedere noi Oppure se volete mangiare in questo posto e non sapete cosa c'è intorno ve lo facciamo vedere comunque noi Ci penso a Staff e Mary E quindi iniziamo subito? Sì, andiamo! La funicolare per salire costa 1,90 euro quanto un biglietto metro, infatti è lo stesso O potete usare anche il navigo che io ho e Stefano no, quindi ci dobbiamo fare tutto a piedi Che bello! Perché sono un tirchio Guardate quanto sono ripide Ci sono ripidissime Fare le scale per salire al sacro cuore Fatto! Una tranquilla domenica a Monmouth In mezzo all'arte La presentazione è super top Com'è buona? Molto buona C'è speck, rucola C'è anche del formaggio dentro Spalmabile E la baguette è una baguette francesca, quindi ci sta Io ho preso quelli ai formaggi La baguette sinceramente me l'aspettavo calda, non so per quale motivo Però è buona ma non morbidissima Comunque croccante E dentro c'è il camembert, poi c'è della rucola e l'uva Ancora non ci sono arrivata l'uva ma sicuramente è una buonissima combinazione Comunque è presentato molto bello, cioè mi piace il giornale È proprio come un tempo incartavano le baguette, no? Sì, sembrava anche molto fish and chips Ti ricordi a Londra avevamo mangiato fish and chips, era nello stesso giornale Cioè se voi venite a Monmouth al sacro cuore È qua A 7 euro comunque vi prendete una super baguette gigante e ci sta E niente ragazzi, questa è Parigi Tempo due minuti, è iniziato a piovere di brutto Infatti ci siamo spostati all'acqua sotto ombrellone Ma comunque la pioggia arriva Comunque Sì, e noi continuiamo a mangiare la nostra baguette Sì, facciamo un po' la francese, nel senso che mangiamo anche sotto la pioggia La baguette La baguette, che cosa romantica, ora ci dovremo dare un bacio Chi vuole una baguette bagnata? No, sicuramente, quindi ci siamo spostati dentro Come è che dice il detto baguette bagnata, baguette fortunata? Così mostriamo anche un po' al dentro Carino, c'è il muro del ti amo Che posto romantico E questi sono piccini Sì, ma non lo prendo Rinozzo finito, ora andiamo fuori Eccoci qui ragazzi, siamo appena usciti dal ristorante Molto francese, come avete visto Qui vedete il cielo, si sta schiarendo Sì, esatto E fanno queste baguette, come avete visto, semplici Però buone Costano 7 euro, perché comunque devono ricoprire le spese del locale Che avete visto molto carino, piccolino, accanto al sacro cuore Effettivamente costa un pochino per essere una baguette Però noi abbiamo voluto portarvi questo posto perché rispetto agli altri ci sembrava molto caratteristico Molto francese, molto carino Esattamente, anche il nome significa rana, tradotto letteralmente E poi il logo carino, questa rana con il cappello alla francese La bevanda costa 2 euro e 90 In totale noi abbiamo speso in 2 19 euro e 80 Quindi 9 euro e 90 a testa Ci può stare, come abbiamo detto È in pieno mon matre, sacro cuore vicino Se siete in zona potete mangiare là Ci sono qua intorno anche diversi baracchini Possiamo chiamarli così Dove vendono panini a 3 euro e 80 Cose così Però noi appunto volevamo stare seduti Gustarcelo in tranquillità Però ragazzi mi raccomando Restate con noi perché ora vi mostreremo Cosa visitare intorno Ragazzi ma la vista più bella La trovate qui al sacro cuore E ragazzi è qua quella famosissima casa storta di mon matre Che in realtà Non è tanto storta Molti ci hanno chiesto Dov'è questa casa E guardate proprio dov'è Cioè Accanto al sacro cuore E non è storta La ripresa era così Il genio che ha fatto la prima foto Con la casa storta Ha fatto credere a tutti Che fosse veramente storta In realtà è più che dritta E niente Mistero risolto In questo momento stiamo andando Verso la vista panoramica E come avete visto L'ingresso costa 7 euro Mi sa che non è stata una buona idea Non è stata una buonissima idea Diciamo 10 10 10 10 10 Mancano 236 E già non ce la facciamo più Ce la faranno i nostri eroi A fare 236 scavini Forse Lo scopriamo tra un po' 193 Comunque è vuoto Cioè non c'è nessuno Siamo solo noi Wow Ma che bello Cioè ragazzi Guardate che bello Cioè siamo sul tetto Della basilica del sacro cuore E quella è la vista su Parigi Vabbè continuiamo Ad andare in là Oddio altri scalini no Questi sono ripetissimi Quindi se avete problemi motori Comunque se avete problemi motori Qui forse potrebbe essere un po' Un problema Perché guardate sono ripidi E un po' scomodi Potreste scivolare Quindi fate attenzione Mi raccomando Non so se è consigliabile per un bambino Guardate il teatro di Fel Ok come potete vedere Siamo già sul tetto Questa è già la vista Bellissima si può dire Ce ne mancano 76 gradini Per arrivare penso tipo Qua in cima Andiamo Guardate quanto sono stretti Cioè chi soffre di claustrofobia Non può assolutamente Perché è veramente muscolo E buio E umido Ce ne mancano 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8 Per arrivare in cima Ragazzi ma quello è il museo di Montmartre Dove è stato ispirato Il ballo al Moulin della Galette Cioè comunque non si vede solo Parigi Ma anche fuori Parigi Qui invece c'è un paesaggio tutto grigio Cioè sono tutti tetti parigini Avete mai visto una cosa del genere? Molto bello Solo io mi emoziono per queste cose Comunque non mi avvicino di più Perché guardate Soffro troppo di vertigi Ma ci provo Tipo faccio così Wow Bellissimo Comunque si sta avvicinando la pioggia Guardate Ci dobbiamo salvare Sì Dobbiamo andare Vento e pioggia Si stanno abbattendo Forse è meglio andarcele Ci sta cacciando il vento La natura non ci vuole qui Ok stiamo scendendo Vista spettacolare Forse è la migliore Che abbiamo visto finora Per parte quella Della Tour Eiffel Dalla cima Gli valgono tutti 7 euro Sì Guardate Ecco come ora Sta diruviando Se sa Mi faccio sconvolta La pioggia Sì Andiamo Ritornate indietro Nel tempo con noi Ora vi mostreremo I vari punti panoramici Qui a Montmartre A parte Quello sopra il Sacro Cuore E quello davanti al Sacro Cuore C'è ne uno qua I prezzi sono esposti qui Costa 13 euro Se siete studenti 18-25 anni 10 euro O meno 17 anni 7 euro Innamorata di questi paesaggi Sempre di più Soprattutto di questo Ecco un altro scorcio Di Parigi Proprio accanto Alla Maison Rose Abbiamo deciso Di cogliere l'attimo Abbiamo trovato Posto alla Maison Rose E abbiamo preso Una limonata E un caffè lungo Per me Perché ho bisogno È emozionante Non costa nemmeno tanto Non è carissimo Io mi aspettavo molto di più Stessi standard Del caffè De Flore Perché è molto turistico Come post Finiremo In tantissime foto Su Instagram Siamo molto felici Di ciò Ecco cosa vi stavo Dicendo Mary Tutte quelle persone Che fanno le foto Comunque io ho preso Un te la fragola Molto buono E Stefano Il caffè Longe Non so se già Ve l'abbiamo detto Ma vi diciamo i prezzi Il mio è costato 4,50 Il tuo non si sa 3,50 Il mio massimo Comunque ragazzi I vitini Di Montmartre Sono chiusi Il pubblico A meno che Non vi connettete Guardate quando sono aperti Noi non l'abbiamo fatto Quindi ve li mostriamo da fuori Questo era un noto cabaret Di un tempo E si chiama Un tempo si chiamava Tipo il cabaret Gli assassini Perché una banda Ha ucciso In passato Ovviamente tantissimi anni fa Il figlio del proprietario E tuttora è aperto Però alle 9 di sera Spettacolo con bevanda inclusa 28 euro Per i studenti 20 euro Tra nel sabato E i giorni festivi Aperto dalle 9 alle 1 Dal martedì alla domenica Cabaret des assassins Assassin Penso si legga così Sta affemmeria pure questo Cultura E' Natale I caffè dei poeti Artisti Esatto Sicuramente questo era un caffè Frequentato da qualche artista Qui ho comprato la mia prima cartolina Montmartre Ragazzi oggi è una giornata un po' così Comunque Inizia a piovere dal nulla Un secondo fa abbiamo fatto la ripresa Non stava piovendo Ora è iniziato E ora siamo arrivati al museo di Dalì Che dovevamo passare da lì in teoria per arrivarci Ma siamo arrivati da quest'altra parte È molto bello Non ci siamo mai stati Però abbiamo visto su internet Che è molto bello Il giorno che volevamo venire Mi sembra era un lunedì Ed era chiuso Oggi non possiamo visitarlo Perché abbiamo altri piani Però prezzo pieno costa 13 euro il biglietto Invece se avete sotto 26 anni O insomma non avete lavoro Siete in una situazione particolare Pagate 9 euro ridotto E questo è un altro punto Dove vedere Parigi dall'alto Sicuramente una delle cose Che non manca a Montmartre Sono i bar E sono tutti particolarissimi Vorremmo iniziare una serie Sui bar più fighi di Parigi Che in realtà abbiamo già iniziato L'anno scorso in estate E vorremmo riproporla E qui sicuramente a Montmartre Ce ne sono tantissimi I bar fighi Dobbiamo solo trovare Diteci se vi piace Se vi piacerebbe Anzi da qua è migliore la vista Comunque per arrivare al Moulin Rouge Bisogna fare tutto un pezzo di strada Pieno di bar Negozietti Comunque non vi annoierete Ci vogliono più o meno 10 minuti di camminata Esattamente Dato che sta qua Abbiamo deciso di farvi vedere anche questo E quello là in fondo È il Moulin de la Galette Un altro bar famoso Dove andavano artisti E così via Molto molto bello Ma molto turistico anche quello E qui nel tragitto potete trovare Il famosissimo Caffè del Moulin Dove è stato registrato Amélie Il fantastico mondo di Amélie Infatti guardate Insomma molte persone vanno Per prendere il famosissimo Creme brulee Come quello di Amélie E poi Spaccarlo Abbiamo camminato più o meno 15 minuti Per arrivare al Moulin Rouge Ma abbiamo camminato molto lentamente Sì abbiamo guardato cose in giro Abbiamo passeggiato Ed è molto bello Purtroppo è spento Perché sicuramente il Moulin gira La sera si illumina Lì potete comprare i ticket Che costano abbastanza Esatto Comunque raga Speriamo che questo giro vi sia piaciuto E anche il ristorante ovviamente Esattamente Noi abbiamo cercato di farvi vedere Più posti possibili Speriamo che Montmartre vi piaccia A noi ci è piaciuta tantissimo Noi amiamo Montmartre Praticamente Non potevamo non portare Un 10 euro qui a Parigi A Montmartre Esattamente Si visita in mezza giornata Una giornata appunto La potete dedicare E se volete passare Come ha detto Mary Un po' di tempo In qualche bar In qualche caffè Qua è strapieno Lo potete fare tranquillamente Vi potete rilassare È poco caotica come zona E quindi ci sta E questo è tutto per questo video Lasciate un like per supportarci E non dimenticate di Iscrivervi al canale E di attivare la campanellina Per ricevere la notifica Sui nostri prossimi video E al prossimo video Ciao Ciao